Qual è il cancro del labbro? Il cancro del labbro è una condizione delle labbro o dei tessuti molli che circondano la bocca in cui sono presenti cellule maligne o tumorali. Generalmente, il cancro del labbro si trova nelle cellule epiteliali, che sono i livelli più alti della pelle che si trovano intorno alla bocca sul labbro superiore o inferiore. Nei casi più gravi, il cancro può coinvolgere anche gli strati più profondi della bocca, compresi i tessuti molli, le cellule muscolari o nervose del viso, delle gengive e del collo. In molti casi, il tumore si presenta come un piccolo nodulo o una sezione tumorale del labbro che non guarirà o andrà via da solo. Il cancro del labbro può anche iniziare come un sottile scolorimento o cambiamento nel tessuto del labbro rossastro-rosa stessa. All'inizio di questi sintomi, una corretta diagnosi del cancro può essere fornite da un oncologo o da un medico specializzato in tumori del corpo. Il cancro del labbro è una forma di cancro alla testa e al collo che può essere efficacemente trattato se preso abbastanza presto nel processo. La presenza di cancro è più spesso scoperta durante una visita di routine dal medico o dal dentista, ma può anche essere qualcosa che il paziente stesso nota quando il suo aspetto facciale cambia. Qualsiasi cambiamento delle labbra o del viso deve essere esaminato immediatamente da un medico qualificato o da un oncologo. Nella maggior parte dei casi, il cancro delle labbra viene trattato con una combinazione di chemioterapia e chirurgia quando necessario. Le cellule cancerose vengono sradicate e rimosse per fermare la diffusione delle cellule maligne in altre parti della bocca, del viso e del collo. Questo trattamento è combinato con uno stile di vita migliorato e abitudini di igiene orale e cure mediche di follow-up. Non è sicuro quale sia la causa di molti tumori, incluso il cancro del labbro. Tuttavia, è noto che alcuni fattori ambientali, genetici e di stile di vita svolgono un ruolo chiave nello sviluppo dei tumori della pelle. Alcuni dei fattori che sono noti per aumentare la probabilità di sviluppo del cancro negli esseri umani sono l'assunzione di alcol e droghe, l'esposizione chimica e pericolosa ambientale, la predisposizione genetica, un'alimentazione scorretta, il fumo e la mancanza di un corretto esercizio fisico. Il rischio di cancro del labbro aumenta con uno stile di vita e scelte comportamentali inadeguate, come l'uso di tabacco e alcol o la masticazione nervosa abituale delle labbra e del tessuto interno della bocca. Si note inoltre il rischio di aumento del cancro del labbro dopo i 45 anni. Prevenire il cancro delle labbra può essere semplice come ridurre questi comportamenti e prendersi cura della propria salute.